Con la predisposizione di un piano di azione annuale e l'istituzione di un ufficio ad hoc coordinato dall'assessore alle politiche sociali, l'amministrazione comunale mette a punto un programma trasversale di interventi dedicato alle persone con disabilità. L'obiettivo, oggetto di una delibera di giunta che recepisce la Convenzione ONU 2006 sui diritti dei diversamente abili e fornire risposte più adeguate a chi vive situazioni di difficoltà, tutelare dunque i diritti di uguaglianza e promuovere politiche integrate di intervento in città. Vogliamo una città accessibile a tutti, fruibile da parte di tutti e soprattutto da chi parte in situazioni di svantaggio. Questo per attuare l'articolo 3 della Costituzione vuole che tutti i cittadini siano uguali senza alcun tipo di distinzione. La nuova struttura affidata alla guida di Sergio D'Angelo avrà il compito di attivare reti di collaborazione nella società civile, monitorerà sugli effetti delle politiche comunali e contribuirà a diffondere una nuova cultura sulla disabilità. Avrà per l'appunto il compito di adeguare i regolamenti e di coordinare le politiche integrate che avranno un impatto sulla qualità della vita delle persone disabili. In buona sostanza il welfare cambia nella nostra città e le politiche sociali diventano le politiche di tutti insomma e riguarderanno non semplicemente l'assistenza e la cura delle persone ma le regole stesse dello stare insieme di uomini e donne di questa città e bisogna forse, avremmo dovuto ricordare che questa città è abitata da circa 40.000 persone disabili. Grazie.